Battisti, allora ci siamo, il momento più importante della stagione, adesso guai a farseli scappare questi play-off. Come hai detto bene, è il momento più importante, abbiamo due scontri diretti difficilissimi contro due ottime squadre, quindi dobbiamo tenere duro perché questa è una squadra che ha fatto tanti sacrifici per raggiungere un obiettivo veramente importante. Ed è tornata anche a giocare un buon calcio, si è vista a Noceto. Sì, a Noceto, ma anche il secondo tempo con il Fano, la squadra sta tornando a fare quelle prestazioni alle quali ci aveva abituato, però adesso la prestazione è importante perché ci dà convinzione ai nostri mezzi, però adesso quello che è importante è tenere l'occhio all'obiettivo e tenere l'occhio soprattutto al risultato perché domenica sarà fondamentale. Play-off, torna alla mente quei play-off di C2, di quel chiedi in cui Alessandro Battisti era uno dei trascinatori? Ma diciamo solamente per il nome e per l'assonanza, non per altro, altri tempi, altra realtà, però questi ragazzi hanno dimostrato veramente di poter essere protagonisti in un campionato importante e io mi auguro veramente di rivedermi loro fra qualche settimana. L'anchitti sportiva in quella fase di play-off diede il meglio di sé? Riempimmo non solo il nostro di stadio, ma tutti gli altri dove andammo a giocare, quindi mi auguro veramente, ma già a partire da domenica perché abbiamo un incredibile bisogno di vedere quello stadio pieno e spero che già domenica i nostri tifosi ci stiano vicini e ci trascinino fino all'obiettivo. Tu sei un profondo conoscitore del campionato e non solo, profondo conoscitore di calcio, chi la spunterà secondo te in questa lotta o meglio chi resterà fuori? Non lo so, noi penso il Poggi Bonsi abbia poche chance a questo punto, quindi siamo in 4 per 3 posti. Io credo che non è retorica dire che questa è una situazione che neanche domenica secondo me ci lascerà fare dei ragionamenti a bocce ferme perché l'ultima giornata sono talmente importanti per tutte e tre, per noi, per il San Marino, per il Prato, per la stessa Aguila che c'è allo scontro di lato. Quindi io ritengo che veramente questa sarà un rush finale di 180 minuti dove solamente all'ultimo potremmo avere certezze, a meno che domenica non succeda qualche episodio particolare di qualche risultato strano, ma tipo la Villa Citrese che faccia risultato con il Prato, ritengo sia abbastanza difficile.